Un saluto e benvenuti sul True Channel. Nel video di oggi vediamo un clip che in media dell'Ovest cercano di nascondere al pubblico americano. In questo video vediamo Putin che avverte la popolazione che sta per succedere qualcosa di molto grave. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Non voglio chiedere aiuto a quelli che hanno perso questa situazione, ma sapete che cosa avete fatto? In un suo discorso un mese fa cerca il presidente Vladimir Putin al Forum Economico Mondiale a San Pietroburgo in Russia, ha avvisato il gruppo internazionale dei giornalisti che si trovavano là ripetutamente che l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia stanno andando alla deriva su vasta scala. Guerra. Abbiamo capito ascoltandovi cosa sta succedendo, loro sanno che noi sappiamo. Siete solo voi che raccontate queste favole e che le comprate per diffondere ai cittadini delle vostre nazioni. La vostra gente non prova il senso incombente del pericolo. Questo è quello che mi preoccupa. Come fate a non capire che il mondo è spinto verso una direzione irreversibile? Questo è il problema. Ma loro pretendono che non sta accadendo nulla di male. Non so nemmeno come arrivare fino a queste persone. E la grande notizia è che un mese dopo, quasi un mese dopo che abbiamo riportato questo per primi, a metà giugno, non c'era ancora alcuna informazione di tutto questo. E questo è esattamente quello che Putin ha fatto. Che voi amiate Putin o che lo odiate è il leader della Russia con migliaia di missili balistici intercontinentali, missili cruiser. Ha detto all'Obes che non sa come arrivare fino a loro. I vostri media sono controllati, sono manipolati. La NATO ha posizionato i missili sui nostri confini. Pertanto dobbiamo muovere i nostri missili. Avete rovesciato l'Ucraina? Siete in posizione offensiva? Finanziate, proteggete l'Islam radicale. Sapete cosa avete fatto? Sapete cosa avete fatto? Questo verso le Nazioni Unite. Destabilizzando il Medio Oriente. Perché avete fatto questo? Dove sono le menti sane? Attraverso lo spettro politico? Chi è in grado di fermare questo? La Russia ha tre basi militari oltreoceano. Voi ne avete centinaia. Voi avete le spie dentro la nostra nazione e cercate di ribaltarla. Con le vostre persone della CIA cercate di entrare nelle nostre ambasciate. Voi siete in guerra con noi ed i medi americani, i medi europei e gli altri media non sono nemmeno consapevoli di questo. Un'altra minaccia menzionata dal Presidente Obama è stato l'ISIS. Chi li ha armati? Chi ha aiutato ad armare la Siria per combattere contro Assad? Chi è stato a creare il clima politico che ha facilitato questa situazione? Chi è che ha spinto per consegnare le armi nell'area? Non riuscite veramente a capire chi è che combatte in Siria? Ma la questione è che il maggior leader mondiale che dice che stiamo andando verso l'orlo di una guerra non si trova nelle nostre notizie. È una grossa storia. Ci mostra come sono incredibilmente controllate le cose. La Deutsche Bank, quando le più grandi banche del mondo precipitavano, molto più di Lennon-Buck Brothers, se avesse continuato avrebbe fatto apparire il 2008 docile in confronto. L'elite sta costruendo fortezze armate da quel che si sa in tutto il mondo. Ammettono di sapere che si sta arrivando al collasso. I governi stanno scavando dentro, la Russia sta scavando dentro. Il nostro ipotetico governo sta facendo collassare i nostri confini e sta portando dentro persone malate. Ignora le regole della Corte Suprema. sembra l'era della follia o la megalomania adesso è su di noi. Abbiamo visto grandi malvagità fuori dalla Russia, l'abbiamo visto nella Germania, abbiamo visto grande malvagità un tempo in Cina, ma l'America aveva i suoi propri problemi. Ed ora vediamo l'Europa e gli Stati Uniti, l'intera situazione anglo-americana, pieni di arguta e arroganza, che violano le leggi nazionali, perseguitano la stampa. Quando trapela materiale riservato, loro la fanno franca. Questo è quanto sta collassando e vengono costruite grandi guerre e calamità. Molti storici indicano il parallelismo fra la prima guerra mondiale e quello che si vede che sta succedendo al giorno d'oggi. E se guardiamo il parallelismo fra la seconda guerra mondiale e il clima politico che vediamo oggi, anche il Pentagono ha ammesso che probabilmente andremo a vedere uno dei periodi più instabili nella storia dell'umanità, proprio adesso. Ma Obama ha detto, abbiamo la migliore economia del mondo che non è mai stata così stabile. Fanno qualsiasi cosa pur di spingerci dentro alla crisi, e non solo sui democratici, loro hanno le loro istituzioni, i repubblicani fanno la coorte, lavorano con loro. Non sono mai stato così interessato su quello che sta succedendo sul pianeta oggigiorno, ma sono in grado di sollevare l'allarme. Voi, là fuori, che siete amanti della libertà, le persone che desiderano avere una civilizzazione, le persone che non vogliono che ci sia una guerra, sono in grado di riunirsi insieme, anche bianchi, neri, vecchi, giovani, conservatori libertari, cattolici, musulmani, chiunque. Noi non possiamo continuare ad avere questi conflitti, non possiamo continuare ad avere questa continua crisi globale, questo marchio dove continuano a provocare problemi, aggravano le crisi e guadagnano potenza da questo, perché tutto il denaro del mondo non avrà più alcun valore se incontreremo una grande guerra nucleare. E questo è quello che il ministro degli esteri russo e molti altri hanno detto di quello che stiamo andando incontro. E Putin adesso sta supplicando la stampa di innescare un certo tipo di dibattito, perché non si può credere che quello che sta succedendo non arrivi alla gente dell'Ovest. Per favore diffondete questo video in lungo e in largo e spero che possa incitare un dibattito in grado di creare una reazione a catena capace di invertire il nostro corso o perlomeno cambiare il nostro corso verso un armageddon. Venti anni fa volevo intervistare persone come Nigel Farage, capo dell'Ukif, quando avevano un paio di membri al Parlamento britannico ed un paio di membri al Parlamento europeo. Adesso è un partito che sta crescendo più velocemente in Europa. Negli UK hanno avuto un esito di successo, il nazionalismo e l'antiglobalismo stanno crescendo. Ho visto la forza della gente quando va in azione e sicuramente l'elite è in decadenza e di certo il loro narcisismo prima o poi si sconnetterà, ma dovremo fare attenzione, dovranno fare attenzione quando noi, il popolo, forziamo il problema.